Buonasera da Passione Politica, nuova puntata per conoscere i nuovi membri del Consiglio regionale che è uscito, che è stato eletto il 31 maggio scorso, questa sera abbiamo con noi Giacomo Giannarelli, buonasera, capogruppo del Movimento 5 Stelle che per la prima volta è entrato nel Consiglio regionale toscano con 5 consiglieri, 15,13% delle preferenze. Come dicevo prima di cominciare la trasmissione, i marziani che atterrano su Palazzo Panciatichi, tra l'altro un avvio di legislatura l'insegna anche così abbastanza tormentata per l'ufficio di presidenza, le nomine, le commissioni, allora intanto la percezione di queste prime settimane di lavoro, come vi state trovando? Ma bene con tutte le differenze genetiche di un movimento fatto di cittadini che entra in un palazzo dove è presente e deviva la partitocrazia, tutto il sistema burocratico connesso, tant'è che una delle prime critiche che abbiamo mosso era quella di aver dedicato due consigli regionali al gonfalone della regione quando in realtà secondo noi le urgenze della regione toscana dei suoi cittadini sono ben altre, per esempio quello sulla povertà diffusa, sull'emergenza occupazione e 500 mila toscani sono sotto la soglia di povertà, quindi dovevamo partire da subito dando un segnale, in realtà abbiamo dedicato due consigli al gonfalone, ora stiamo diciamo cercando di mettere la macchina sul binario giusto. Macchina sul binario giusto, allora proprio nella prima seduta c'è stato questo scontro sulla composizione dell'ufficio di presidenza, è un organo molto strategico perché dà l'indirizzo agli atti amministrativi principali, gestisce anche dei fondi relativi a tutta una serie di attività svolte dal consiglio e di fatto voi ne siete rimasti fuori, con grande polemica. Che cosa è successo, la vostra versione? Gli altri dicono di avervi consultato e che voi non avete voluto confrontarvi. Non è proprio vero, è parzialmente vero, diciamo che c'era stato un primo approccio della Lega Nord sul portavoce dell'opposizione dove avevano proposto quello in cambio di altre cose con la famosa frase do ut des, cito Borghi, ma in realtà poi su quella cosa noi ritenendo inutile questa figura e non rappresentativa dell'opposizione perché ricordo che la Lega dista solo dell'1% rispetto al Movimento 5 Stelle che è sì la terza forza politica regionale ma solo per un 1% di voti meno e non era inopportuno istituire questa figura, tra l'altro noi siamo l'unica forza politica che rinuncia alle indennità aggiuntive e quindi togliere anche questa figura avrebbe portato qualche piccolo risparmio nelle casse della regione perché comunque il portavoce prende un'indennità di carica di funzione aggiuntiva. Ricordo che noi siamo gli unici a rifiutare tutte le indennità aggiuntive che ci vengono assegnate in funzione della carica come Presidente, Vice Presidente di Commissione e siamo gli unici che ci tagliamo lo stipendio. Ecco e quando invece si è passati alle commissioni consigliari qui è andata un po' meglio? Ma noi abbiamo fatto una battaglia per i luoghi di garanzia dove secondo noi era necessario che ci fossero presenti quelle forze che rappresentavano i cittadini e che fossero da garanti per trasparenza, efficienza e ahimè c'è stato un patto del Nazareno in Sassa Toscana, il partito unico cosiddetto in questa fase, poi le differenze ci sono ma nella fase delle nomine sono rimasti compatti per escluderci insomma. Poi noi paghiamo anche un po' di inesperienza, di incapacità di meditazione in queste cose, ci torna veramente difficile, mentre sui temi c'è trasversalità, noi abbiamo firmato la mozione del PD sull'emergenza delle poste, l'abbiamo scritta insieme, abbiamo come tutte opposizioni uniti, abbiamo chiesto l'istituzione della commissione d'inchiesta sulla Monte dei Paschi e sugli intrecci societari tra Regione Toscana e Monte dei Paschi, ahimè attualissima perché proprio ieri la Corte dei Conti ha fatto un severo richiamo alla Regione Toscana proprio sulla gestione fallimentare delle partecipate che ci recano un danno di una perdita di più di 5 milioni di Euro, dei quali più della metà sono dovuti proprio a Fidi Toscana. Fidi Toscana è la finanziaria regionale? È la finanziaria regionale dove la Regione Toscana è socio a circa il 46% e l'altra parte delle quote societari sono di Monte dei Paschi. Allora, c'è molto da lavorare dal vostro punto di vista, torniamo e approfondiamo meglio questo aspetto legato alle indennità. Allora, intanto voi quanto percepite? Noi come Movimento 5 Stelle rifiutiamo tutte le indennità aggiuntive di carica. Regionali, tagliate perché ci riduciamo quasi dalla metà l'importo complessivo perché abbiamo fissato un tetto massimo di 5 mila Euro lordi, ricordo lordi che sono già tantissimi e rimborsiamo tutti i rimborsi che non sono giustificati da un rendiconto puntuale. Cioè se fornisci lo scontrino dimostri che cosa hai speso, di solito andiamo a mangiare qua, non è che siamo lussuriosi o abbiamo particolari vizi, facciamo una vita normalissima tanto quanto si faceva prima e comunque prendiamo i rimborsi solo per quello che effettivamente si spende. E questi soldi che voi non percepite dove vanno? Intanto abbiamo chiesto di non percepirli direttamente, cioè non dateceli, non si può fare. A oggi non si può fare, stiamo preparando una proposta per fare come hanno fatto in Emilia Romagna dove se non sbaglio anche il PD l'ha votata, hanno fissato un tetto massimo, 5 mila Euro lordi per consigliere e questo permette di fare le cose in estrema efficienza e trasparenza, cioè escono dalle casse della regione direttamente solo quei soldi tagliati. Oggi non è così, le eccedenze noi le restituiamo, così come facciamo un Parlamento nazionale, le restituiamo. Noi stiamo chiedendo alla regione nel momento in cui viene istituito il fondo per il microcredito regionale per le piccole e medie imprese, le diamo dentro quel fondo, altrimenti le mettiamo in un conto corrente che sarà destinato a un fondo per le piccole e medie imprese o barra per l'edilizia scolastica, ma sarà una scelta che faremo in rete. Comunque torneranno ai cittadini e alla collettività. Ecco, quando voi avete fatto questa, voi avete anche proposto una mozione per questa questione dell'indennità che però non ha riscosso grande successo. Sì, ha creato un po' di parapiglia nel Consiglio regionale, non se l'aspettavo, non ci sembra una cosa così di buon senso perché bisogna dare anche l'esempio. Devo dire che qualcosa è stato fatto nella regione di Toscana, va riconosciuto, però c'è molto da fare. Qualcosa nei termini di ridurre l'indennità. La riduzione delle spese, la riduzione dei consiglieri, negli anni passati è già stata ridotta l'indennità. È una delle più basse comunque in Italia e su questo assolutamente bisogna... Però si può fare ancora qualcosina. Ma questo sempre. Soprattutto da una regione virtuosa come la nostra che deve cogliere queste criticità per farle diventare dell'opportunità. Così come, ripeto, quelle criticità emesse dalla Corte dei Conti dobbiamo prenderle e lavorarci finché diventino delle opportunità che apportino ulteriori vantaggi alla regione. Allora facciamo questo ulteriore passo avanti, mettiamo un tetto massimo più basso per l'indennità. Noi abbiamo proposto questa cosa nel Consiglio regionale, mancavano delle firme, solo si Toscana con Fattori e Sarti hanno firmato questa proposta e nessun altro ce l'ha appoggiata. Si è creata un po' il terrore nel Consiglio. Ognuno degli altri consiglieri di Lega Nord, Fratelli d'Italia, Forza Italia e PD hanno apportato le più svariate giustificazioni alla questione. Secondo noi è un gesto che dà il buon esempio. Si fa già in Emilia Romagna con l'appoggio di altre forze, trasversalmente è stato deciso di far così. Secondo me lavorandoci si potrà fare anche in regione, perché sono i cittadini che lo chiedono. Soprattutto oggi in questo momento di difficoltà la politica deve dare l'esempio. Siccome si può vivere dignitosamente con molto meno, noi siamo dei dipendenti pubblici a progetto e questo dobbiamo prenderne atto e rendere conto la cittadinanza che ci ha votato o non votato, ma sicuramente ci affida i propri risparmi, i propri redditi da lavoro o da pensione. Insomma, con i contributi si mantiene in vita tutto. Allora, cerchiamo di dare buon esempio. Allora, rimaniamo in tema del bilancio regionale, visto che appunto di arrivare a Conte dei Conti ha presentato questioni di conto, in pratica la regione è stata promossa, ma con tutta una serie di criticità evidenziate. Fra queste è anche la questione delle partecipate su cui poi voi siete intervenuti. Ecco, spieghiamo il problema. Il problema è che la Corte dei Conti, che è un organo garante, che è dalla parte dei cittadini, perché la Costituzione introduce questa figura affinché controlli l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la trasparenza delle spese delle amministrazioni pubbliche, in particolare dello Stato e della Regione, in senso lato. E ha promosso la Regione Toscana nel suo complesso, però ha rilevato alcuni punti sui quali dobbiamo lavorarci. Uno è quello delle partecipate, che recano una perdita di 5 milioni e 300 mila Euro all'anno. Vuol dire che c'è qualcosa che non va. Secondo noi è dovuta anche a una gestione un po' troppo partitocratica, poco meritocratica, un po' troppo poco trasparente e poco corrispondente alle reali esigenze dell'imprenditoria toscana. Quindi lì vogliamo intervenire con la commissione di inchiesta sulla Monte dei Paschi e sull'intrecci societari con la Monte dei Paschi, ci ricade anche Fidi Toscana. Fidi Toscana è stato citato dalla Corte dei Conti come quella partecipata che arrecca in percentuale più perdita. Ci sono dei dati allarmanti come il saldo finanziario meno 242 milioni di Euro. Si cita un eccessivo utilizzo di affidamenti diretti per servizi e beni senza passare da bando di gara. Questo potenzialmente alimenta il sistema della corruzione. E si cita proprio anche un servizio per la mensa di un'azienda universitaria. Ora non mi ricordo precisamente il nome, però c'è nella scheda della Corte dei Conti. Dice proprio il nome di dove bisogna intervenire. Io oggi nella commissione controllo ho puntualmente posto la questione. Ho detto ma perché come commissione controllo facciamo presenti questi aspetti della Corte dei Conti che sono delle pure valutazioni di merito. Sono conti, non sono giudizi politici. Sì, sì, no, assolutamente sono anche molto oggettivi e tecnici da tutti i punti di vista. Che tipo di reazione ha ricevuto? No, tendenzialmente sono sicuro che in prospettiva la commissione controllo lavorerà bene. Questa è una premessa che mi sento di fare. Di cui peraltro lei è segretario. Io sono uno dei segretari, il segretario. C'è un clima buono, ecco. Si rimane un pochino troppo sul timore che una posizione unica della commissione controllo potrebbe avere una voce troppo politica. Ma diciamo si tratterebbe di prendere e farsi portavoce delle istanze della Corte dei Conti. Per questa volta non è stata così. Sono sicuro che per le prossime volte si farà questo approccio in modo univoco. Porteremo queste istanze come singoli consiglieri nel prossimo Consiglio regionale. Allora, brevissima interruzione poi torniamo a parlare con Giacomo Giannarelli del Movimento 5 Stelle.